Vediamo adesso la creazione e le caratteristiche di un documento chiamato Fogli Google. Si chiama Fogli perché realizza un foglio elettronico, quello che in inglese si chiama spreadsheet, ovvero il tipo di documento tipo Excel. E infatti vediamo che abbiamo un'interfaccia righe e colonne con le lettere e i numeri, esattamente come Excel, quindi in questo caso possiamo fare il solito utilizzo. Per esempio, se io voglio raccogliere dei dati che in questo momento non saprei chiamare, anzi facciamo una cosa, facciamo per esempio, qua ci siamo classe e qua studenti, nel senso del numero di studenti, allora naturalmente in questo momento lo sto inventando, facciamo che la prima A ha 25 studenti, la prima B ha 30 ragazzi, qua sì che prima ci ho messo il punto esclamativo, prima B, ecco qui, la terza C, la terza C ne ha semplicemente 15, mentre la quinta A ce ne ha 21. Ho raccolto questi dati che posso ordinare, posso filtrare come posso fare con Excel, chi usa abitualmente Excel sa di che cosa stiamo parlando. Posso fare anche dei diagrammi, che sono molto interessanti, per esempio, come fare a fare un histogramma di questi dati. Seleziono le celle, si fa come Excel, e poi inserisco grafico, devo scegliere inserisco grafico. Una volta fatto clic su inserisco grafico, ecco, qua già mi dà dei consigli, per esempio, posso avere un grafico a torta, un grafico a barre, o ancora un grafico a barre orizzontali. Scegliamo in questo momento il tipo classico di grafico, per cui vedremo che per ogni classe ho rappresentato il numero di studenti. Faccio clic su inserisci, e c'è il grafico riportato qui. Naturalmente il grafico è interattivo, per cui se in quinta A mi accorgo che, anziché essere 21, sono per esempio 25, adesso vedremo che la barra di quinta A si è alzata corrispondentemente. Anche questo tipo di ambiente ha la possibilità di avere più schede, come Excel. Facciamo clic su più per avere il foglio numero 2. Supponiamo questa volta di voler provare a costruire una funzione matematica. Per esempio, qua scriviamo y, qua scriviamo x, qua scriviamo y. Supponiamo che la y sia uguale, vogliamo fare una parabola, per esempio, a 3x al quadrato. E allora, dobbiamo creare una serie di valori per x e farci calcolare la corrispondente serie di valori per y. Allora, intanto creiamo i valori per x. Supponiamo di mettere uno zero, poi andiamo di unità e in unità per semplicità. Se faccio in questo modo, genero automaticamente una successione di numeri di uno in uno. A questo punto qui, devo scrivere la funzione matematica. Quindi scriverò, come faccio con Excel, uguale e compare la barra funzione qui. Quindi devo scrivere 3 per, lo devo scrivere esplicitamente, per x devo prendere il valore della colonna x, quindi è la cella A2, e A2 lo devo fare al quadrato. Quindi, se non sbaglio, la sintassi, devo scriverla così. Naturalmente, in questo caso, viene zero. Quando faccio, seleziono e trascino dal quadratino per il numero di righe corrispondente a quelle della x, la funzione viene aggiornata di volta in volta per andare a prendere il valore corrispondente della x. Quindi, al rigo 4 avrò A4, quindi il valore 2 viene messo al posto della x di questa espressione, viene calcolata l'espressione e il risultato è messo qui. Se noi vogliamo fare il diagramma di questo, come abbiamo fatto prima, selezioniamo i dati, inserisci grafico, naturalmente questa volta non sarà più un grafico a barre, ma dobbiamo inserire un grafico di questo genere, cioè quello che in Excel è chiamato un grafico a dispersione, perché dobbiamo avere la y rispetto alla x. Quindi, questo ci sta perfettamente bene. Qua possiamo andare a vedere altri tipi di grafici, ma in questo momento è meglio che non ci perdiamo. facciamo inserisci e abbiamo, in questo caso, creato un grafico della funzione matematica che abbiamo scritto qui, y uguale 3x al quadrato, cioè una parabola.